Una serie di iniziative per affrontare la questione dei pesticidi. Noi abbiamo in animo di prendere delle decisioni o nello statuto del Comune, anche se la cosa è un po' controversa, perché ovviamente lo statuto... Siamo per togliere i pesticidi e contrastare l'uso dei pesticidi, questo mi pare evidente, come ha fatto un sindaco in Comune del Trentino, oppure fare un regolamento richiamando, ovviamente nello statuto, i concetti sulla biodiversità. Ovviamente già abbiamo fatto diverse iniziative e questa vorrebbe essere... Oggi noi facevamo in genere la festa dell'aria, noi facciamo tre feste, la festa dell'acqua, della terra e dell'aria. Quest'anno, non potendo fare iniziative diverse, abbiamo pensato di fare questo, ho preso contatto soprattutto con Lucia e poi tramite lei, con tutti voi. Vorrebbe essere, diciamo sì, un avvio di un dibattito... Sì, siamo in diretta Facebook, quindi anzitutto saluto tutti, saluto i nostri ospiti. Abbiamo qui con noi Lucia Maddoli, vice direttrice di Felcos Umbria, Vincenzo Panettieri, presidente dell'Associazione Apicoltori del Mediterraneo, Claudio Porrini dell'Università di Bologna, Luca Ciampelli, vicepresidente a Pau, e dovrebbe arrivare anche un apicoltore, Paolo Ferraldischi, qui della zona che collabora con il Comune. Io sono il sindaco del Comune di Parrano, sono Valentino Filippetti. Quest'iniziativa si svolge nell'ambito di un'iniziativa ricorrente del Comune di Parrano, che è la festa dell'aria, si fa più o meno in concomitanza, sarebbe il 4 novembre, ma poi si tiene conto, diciamo, del calendario, che sono gli accordi di Parigi sul clima. Oggi forse potremmo festeggiare stasera un risultato, perché sembra che se vince questo democratico, diciamo, si rifirmerà questi accordi che Trump, come lo sapete, aveva disdetto. Quindi tutti gli adanni noi facciamo la festa dell'aria, quest'anno l'abbiamo dedicata, la vorremmo incentrare sul tema delle api, un tema che ci sta a cuore, noi siamo un comune amico delle api, collaboriamo molto con gli apicoltori, stiamo realizzando un parco con piante mellifere tutto intorno al borgo medievale, e abbiamo fatto un apiario di comunità, cioè dieci cassette che vengono messe a disposizione di chiunque voglia imparare a coltivare le api, e anche a curarle, anche a estrarre il miele, ovviamente sempre insieme a questi apicoltori che collaborano con noi. Ovviamente tutto è gratuito, come gran parte dell'ambito di un ragionamento più generale, un programma nostro che parla più diversa, che appunto tende a tutelare, a salvaguardare le qualità del nostro territorio che vedono una forte biodiversità, sia vegetale, animale, la qualità dell'aria. Noi abbiamo un progetto per vendere l'aria, adesso ve lo risparmio perché abbiamo poco tempo. Quindi quello che vorremmo fare oggi con voi, che siete tutte persone esperte e soprattutto appassionate, che da anni vi è dedicata a questo tema, di aiutarci a aprire un dibattito perché al di là delle persone che ci seguiranno, che spero che sulla pagina Facebook del Comune di Parrano si colleghino e possono anche interloquire con noi, farci delle domande, ma soprattutto poi avendo registrato questa piccola trasmissione, tra virgolette, diventi un fatto divulgativo. e quindi aprire un dibattito su questo fatto, non solo tutelare, ma come, quali iniziative intraprendere, come portare avanti questa campagna e come poi svilupparla. Saprete sicuramente che qui nei comuni limitrofi, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Ficulle, è stata istituita una riserva mondiale della biosfera da parte dell'UNESCO, la prima che c'è, l'unica tra l'altro che c'è in Umbria, e quindi perché c'è un, ci sono 40.000 ettari di bosco di cui più di 10.000 di proprietà diamaniale della regione che sono l'unico pezzo di macchia mediterranea integro che è rimasto in Umbria praticamente. E quindi ovviamente tutto, diciamo sì, ci può aiutare, no? di fare da qui, diciamo sì, un'iniziativa adeguata per tutelare questi animaletti che sono, diciamo, come se abbiamo una cosa, un anello fondamentale, no? Della nostra vita. È un po' questo il discorso. Io però ecco, cedo la cosa, la palla e la regia, Lucia Maddoli, che è l'unico in cui, a voi vi conosco per fama, diciamo, con lei, ci siamo anche sentiti, così che imposto un po' il ragionamento. Prego, Lucia. Grazie, sindaco. Grazie anche e soprattutto per aver insistito per organizzare oggi questo... Mi sentite? Mi riuscite a sentire? Ok. Dicevo, grazie al sindaco per aver insistito per organizzare oggi questo evento, nonostante, diciamo, questa situazione di emergenza sanitaria in cui, appunto, molti in realtà sono stati sospesi. Però, in realtà, penso che il evento sia molto appropriato, perché in realtà parlare di tutela dell'agricoltura significa parlare, appunto, di tutela della biodiversità. E, diciamo, questa cosa si collega molto bene anche con quanto sta succedendo con questa emergenza sanitaria, perché sempre di più autorevoli studi sostengono che vi sia proprio una causa diretta tra anche l'emergere di questo tipo di pandemie e le attività umane che generano, per l'appunto, perdita di biodiversità e cambiamenti climatici, no? Non a caso questa tecnologia di agricoltura intensiva, un uso non sostenibile dei territori, l'intensificazione dei commerci, sono tutti elementi che, in qualche modo, stressano la natura e la sconvolgono e aumentano anche le possibilità di contatto tra la fauna selvatica, le persone, gli animali allevati e possibili agenti patogeni. Quindi, diciamo, che parlare oggi di tutela delle api, di tutela della biodiversità, di una modalità di sviluppo sostenibile dei nostri territori, diciamo, non è una cosa avulsa, ma in qualche modo rientra perfettamente nelle sfide che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Ringrazio il Sindaco anche per aver con questa iniziativa rilasciato qui in Umbria, dove è partita questa iniziativa dei comuni amici delle api, che voglio ricordare brevemente l'iniziativa è nata nel quadro del progetto Mediterraneo Cooperation, che è un bellissimo progetto di cooperazione internazionale che abbiamo realizzato ormai da due anni, di cui Felcos siamo stati promotori insieme appunto alla PAU e a tanti ad Apime e ad altri partner, che aveva tre obiettivi fondamentali, che era quello ovviamente di lavorare insieme alle associazioni degli apicoltori dei paesi del Mediterraneo per rafforzare le loro competenze. C'era una componente che ha cercato di sostenere una ricerca scientifica, proprio che andasse a dimostrare il legame tra l'apicoltura e il riprodursi e il mantenersi della biodiversità, soprattutto in quelle aree dove la biodiversità era messa a rischio, per esempio nelle aree in via di desertificazione o nelle aree soggette a incendi. E poi c'era una terza componente di questo progetto, che era proprio una componente di sensibilizzazione molto forte, in cui quello che abbiamo cercato di fare è proprio di mettere in piedi un'alleanza fatta da diversi attori, quindi le autorità locali, gli apicoltori, il mondo della ricerca scientifica, ma anche i governi, le organizzazioni internazionali. Quindi creare un'alleanza multiattoriale a sostegno delle api e della biodiversità, riconoscendo a queste un valore di bene comune, proprio per il loro ruolo, per la sicurezza alimentare, ovviamente anche per lo sviluppo economico, perché è anche un'attività economica, ma soprattutto in virtù del ruolo delle api e dell'apicoltura, per la sicurezza alimentare e per la biodiversità. La cosa bella che è successa appunto con questa iniziativa e appunto le autorità locali sono stati uno dei target principali di questa iniziativa, proprio per questo legame molto stretto che c'è tra il territorio, la specificità dei territori dell'apicoltura, ma anche considerando il ruolo fondamentale che i comuni hanno come attore politico per la promozione dello sviluppo sostenibile delle proprie comunità e anche considerando il fatto che i comuni sono dei soggetti che possono attivare delle iniziative concrete a sostegno e a tutela delle api e dell'apicoltura. Quindi dicevo, la cosa bella che è successa è che questa iniziativa non è morta quando si è concluso questo progetto di cooperazione tre anni fa, ma ha continuato a viaggiare sulle proprie gambe e quindi ci sono arrivate delle, continuano ad arrivarci delle adesioni di molti comuni in tutta Italia, anche fuori dell'Umbra, che intendono abbracciare questa causa. e oggi, adesso non so se riesco a condividere con voi, vorrei darvi il, è possibile condividere lo schermo, chiedo forse a Luca? Sì, è possibile. L'amministratore, che credo che sia il sindaco, ti deve dare lo screen, share screen, ti deve rendere amministratrice. Quindi per Valentino, non lo vedo più, mi è sparito. Vabbè, se no non fa niente. Arriva, arriva, è andata a fumare. Proibiamo il zumo. Non è proibito il zumo. Quali e quanti comuni in tutta Italia avevano ad oggi aderito. Comunque, dicevo, ai comuni, attraverso appunto la delibera di un atto in giunta o in consiglio comunale, si chiede, prima di tutto, di riconoscere pubblicamente il valore di bene comune delle api dell'apicoltura. La, di riconoscere anche la necessità di dedicare maggiore attenzione a queste tematiche della salvaguardia, del rafforzamento dell'apicoltura e infine di inserire l'apicoltura come un vero e proprio asse strategico delle proprie politiche di protezione ambientale ma anche di valorizzazione dei territori. E quindi, in fin dei conti, l'apicoltura come uno strumento di sviluppo locale adottando ovviamente delle azioni concrete. Attualmente, appunto, in Italia abbiamo, mi sembra, dunque, aspetti, iniziamo da Lumbria. In Umbria abbiamo 28 comuni amici delle api, insomma, praticamente un terzo dei nostri comuni hanno aderito all'iniziativa, non è poco, e in tutta Italia abbiamo 37 comuni amici delle api che hanno aderito. Insieme ai comuni vi sono una serie di associazioni, partner, che sono strategiche per portare avanti questo tipo di iniziative che stanno attivamente contribuendo ad allargare questa campagna anche tra altri comuni e a far pressione in qualche modo sui comuni perché questa adesione non sia solo un'adesione formale ma che poi dia atto a delle iniziative concrete. Noi abbiamo recentemente registrato il marchio dei comuni amici delle api alla Camera di Commercio quindi tutti i comuni che appunto approvano la delibera potranno poi utilizzare il marchio sul proprio territorio e da poco abbiamo attivato un sito internet dell'iniziativa che vuole dare visibilità alle iniziative che sui singoli territori vengono organizzati e anche vuole essere uno strumento pratico per scambiare le buone pratiche tra i vari territori a questo proposito approfitto per chiedere al sindaco di Pardano di farci avere qualche fotografia e qualche riga di descrizione di queste iniziative che ci raccontava dell'apiario di comunità e di questo giardino mellifero intorno alle mura perché possiamo caricarlo sul sito in modo che possa essere anche di ispirazione per altri comuni quindi ecco siamo in una fase interessante noi stiamo tentando per quello che possiamo come FECCOS il nostro è più un lavoro dietro le quinte di sostenere la rete e cercare di farla crescere e quindi cercheremo di fare proprio questo anche facendo un minimo cercando di rafforzare il coordinamento e poi certo la vera sfida sarebbe anche riuscire a reperire delle risorse economiche che ci permettano di rafforzare questa rete dei comuni far sentire maggiormente la voce e anche organizzare maggiore maggiore iniziative ecco io come appunto recentemente abbiamo partecipato con Luca Ciampelli e anche Claudio Porrini al primo convegno nazionale dei comuni amici delle api alla ZISE nel quadro di un importante evento dedicato ai miei italiani e devo dire che veramente si nota che c'è molto interesse da parte dei territori verso questa verso questa iniziativa quindi la proposta che abbiamo lanciato anche lì è quella di organizzarci per organizzare una mobilitazione nella prossima primavera in occasione della giornata mondiale delle api che è il 20 maggio sperando che questa pandemia ce lo consenta cercare di dare visibilità e voce a questa rete organizzando appunto delle mobilitazioni coordinate in tutti i comuni che hanno che sono comuni amici delle api allora io per il momento mi fermerei qui e darei la parola darei la parola non so a chi vogliamo probabilmente per primo facciamo parlare magari Vincenzo Panettieri che è presidente di Apimed che appunto è stato anche lui tra gli ideatori di questa importante iniziativa dei comuni amici delle api e quindi a te la parola Vincenzo magari possiamo entrare più nel dettaglio cominciare a capire che cosa concretamente che tipo di azioni possono fare i comuni a salvaguardia delle api della biodiversità in funzione della loro funzione strategica di servizi ecosistemici scusate mi dice qui il regista che per condividere lo schermo in fondo c'è un banner share screen cliccate lì prego poi magari ve li faccio vedere anche la solo la lista dei nomi dei comuni aderenti non è così importante va bene vai Vincenzo sì grazie grazie innanzitutto sindaco per l'invito per questa bella manifestazione e per la conferma dell'adesione del comune di Parrano alla rete dei comuni amici delle api una bellissima iniziativa quella che avete fatto per due motivi primo perché bene i comuni amici delle api hanno bisogno di essere come dire diffusi pubblicizzati l'altra perché questa festa dell'aria rientra perfettamente nell'ambito tematico odierno approfittando quindi di questo magico tasto della condivisione dello schermo vediamo se funziona se mi funziona proverei a inserire una presentazione ma non credo condividere lo schermo non credo di riuscirci allora Vincenzo scusami se vai su share screen al centro che cosa ti compare cliccandoci sopra mi compare l'ospite ha disabilitato la condivisione ok quindi il sindaco deve lei collegarsi in alto a destra c'è il menu a tendina dove autorizza panettieri a condividere lo schermo o renderlo comunque amministratore adesso non mi ricordo cosa compare perché io non riesco a vedere e gliela facciamo altrimenti proseguiamo è attivato è attivato quindi dovrebbe funzionare evviva ecco noi infatti bene grazie quindi inizierò questo brevissimo intervento citando quella che è la definizione che viene data di capitale naturale dall'istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile che cos'è è un istituto un'istituzione privata molto autorevole a sede in Canada ma ha anche altre sedi in diverse parti del mondo che ha dato una definizione di capitale naturale e cioè per capitale naturale si intende l'insieme di elementi fondamentali quali la terra l'acqua l'aria tutti gli organismi viventi tutti quegli elementi tutte quelle componenti che sono all'interno della biosfera nell'ambito della biosfera terrestre e che sono funzionali che sono utili al sostentamento e alla prosecuzione all'esistenza degli ecosistemi ma non solo sono inoltre importanti fondamentali per tutte le attività economiche umane quindi vediamo subito come in realtà nel concetto stesso di capitale naturale capitale è un termine è questo il termine è questo e fra l'altro è uno di quattro c'è di capitale naturale poi c'è un capitale che è un capitale umano c'è un capitale che è un capitale sociale quindi ci sono diciamo diversi ambiti di di discussione di trattazione ma il nostro capitale potremmo dire le nostre risorse naturali ecco sono in realtà non soltanto e non contemplano soltanto un aspetto come dire biofisico ma contemplano in pieno a pieno diritto anche l'ambito nostro nostrano l'ambito umano e questo è davvero importante strategicamente importante certo vuol dire considerare la natura forse non soltanto in termini romantici come a molti di noi piacerebbe e come certamente bisognerà continuare a fare ma anche in termini come dire forse più aridi forse più tecnicistici forse anche diciamo più legati egoisticamente alla nostra sopravvivenza e al nostro benessere ma questo è in ultime analisi a mio avviso non viene male in ultimo se questa è la concezione che ci deve portare verso un'altra strada un altro modo un'altra modalità di sviluppo e quindi cosa che in realtà gli ecosistemi per il semplice fatto di essere di esistere hanno intrinseco in loro stessi la loro stessa funzionalità e cioè un ecosistema è tale perché è già un'organizzazione un insieme di relazioni tra organismi viventi ma non solo e al tempo stesso è funzionale alla sua stessa sopravvivenza ma non solo ma se noi consideriamo la diversità degli ecosistemi beh allora ecco che ci avviciniamo al concetto di biodiversità eccola quindi ma ci rendiamo conto quindi che quando noi parliamo di ecosistemi e parliamo di biodiversità beh non ci stiamo riferendo stiamo parlando di api e quindi è lì che andremo a parare alla fine ma non ci stiamo riferendo soltanto diciamo alla germinazione di questo di quel fiore di quella pianta ma in realtà parliamo della garanzia che qualcuno deve offrire a un intero ecosistema che a sua volta ha bisogno di altri ecosistemi per continuare a vivere diciamo qualcosa di bucolico in modo armonico in modo appunto effettivamente naturale ma ecco torniamo un po' alla cruda realtà gli ecosistemi forniscono un bene fruibile del genere umano quindi torniamo ancora una volta a un concetto di economia ma in effetti tra ecologia ed economia beh c'è una parte comune che ci fa capire come la cura della nostra casa perché questo poi alla fine vuol dire sia qualcosa che si ha degli aspetti e dei risvolti che non possono essere ignorati o non possono essere trattati in modo distaccato separato ecologia economia devono andare insieme e questa è la cosiddetta buona gestione delle risorse naturali che quindi secondo questo principio che ripeto è un principio autorevole di di pluri e di decenni e decenni fa e comunque è un concetto che ci fa capire come in realtà come dire l'amore per la natura o il rispetto per la natura non è soltanto qualcosa appunto di etico non è qualcosa di soltanto religioso dove sicuramente le religioni esprimono dalle primitive alle più diciamo non so come dire sviluppate alle più strutturate beh non è soltanto un concetto di questo tipo ma in effetti è molto più banalmente più prosaicamente è un concetto se volete tecnico ma è una necessità di sopravvivenza e questa necessità di sopravvivenza è appunto qualcosa di legato anche a una necessità economica arriviamo quindi alla gestione sostenibile degli ecosistemi se non c'è sostenibilità un ecosistema si degrada e quindi finisce con il non funzionare più e quindi creare danni che a catena si ripercuotano su tutti gli anni e su tutti gli altri beh su questo punto della gestione degli ecosistemi noi apicoltori in realtà sono 30 anni che cerchiamo di dire la nostra cerchiamo di dirla in un ambito che è un ambito di settore come per il resto mi è capitato di affermare non so quante altre volte noi in ultima analisi cerchiamo di restare nel nostro ambito e parlare di ecologia parlare di ambiente parlare di biodiversità è qualcosa che è necessario conoscere è necessario sapere ma è anche qualcosa che noi usiamo anche strumentalmente se volete ai fini della difesa e della tutela del nostro settore ma andiamo avanti le relazioni e gli scambi possono essere essi stessi un servizio ecosistemico ma un ecosistema insomma tanto per naturalmente per chi ci sta ascoltando cos'è un ecosistema una foresta un bosco una prateria un prato un margine di un prato vicino a un bosco delle siepi la piana di Castelluccio le paludi di Colfiorito le barene le barene della laguna di Venezia ecco che cos'è un ecosistema e quindi ecco che capiamo anche che cos'è un territorio e c'è un insieme di ecosistemi dove ovviamente l'unico sistema è impossibile da pensare insomma sarebbe una contraddizione è una mona che non può esistere insomma una foresta un ecosistema al tempo stesso fornisce un servizio ecosistemico pensate per esempio al legno il legno è una delle principali forniture certamente per noi è facilmente intuibile come il legno sia per noi un servizio che ci viene offerto da questo ecosistema e quindi è questo ecosistema quindi vediamo come in realtà ci sia uno scambio continuo e anche questa diciamo una forma di vita se vogliamo uno scambio fisiologico un ecosistema che è tale ma al tempo stesso serve altri ecosistemi cosa definisce l'ecosistema la funzione ecologica quindi torniamo all'ambiente biofisico la funzione socio-economica cioè è comunque benefica per l'uomo se ben gestita o comunque se rispettata perché non necessariamente ci dovrebbe essere una gestione la gestione noi abbiamo cominciato a considerare nel momento in cui ci rendiamo conto che degradiamo gli ecosistemi nei quali viviamo dei quali ci serviamo ci deve essere un valore di scambio ci deve essere un valore da assegnare a questo servizio ecosistemico e deve resistere una relazione tra chi fornisce questo servizio e chi di questo servizio usufruisce e quindi c'è solo da pensare a qualche esempio e naturalmente l'esempio che scusate l'esempio che posso portare che devo portare in questo in questo ambito è quello dell'apicoltura è quello delle api le api da miele noi siamo apicoltori parliamo di api da miele benissimo ecco qui il prodotto miele dipende da api capitale naturale qualità dell'abito capitale naturale disponibilità di arnie noi apicoltori che siano arnie più o meno raffinate moderne antiche o quant'altro e il capitale prodotto ecco l'altra categoria abbiamo detto dei quattro i quattro grossi filoni per definire tutto ciò che a noi è utile quindi il capitale naturale il capitale sociale il capitale prodotto il capitale umano eccolo il capitale umano per ultimo è la professionalità degli apicoltori un'affermazione una rivendicazione che abbiamo sempre fatto nel corso degli anni è attenzione che quando si è trattato le primissime che si parlava si diceva attenzione le api stanno morendo e non siamo gli apicoltori non venivano creduti non venivano creduti per le affermazioni che facevano beh gli apicoltori e devo devo dire con con chiarezza sono stati gli apicoltori che non sono stati i giornalisti non sono stati i politici non sono stati i ricercatori non sono non è stato altro che gli apicoltori che per primi si sono accorti che le api stavano morendo certo perché le allevano e quindi ecco ecco qual è il gioco benissimo cancelliamo la parola miele e mettiamoci la parola verde ho inserito avrei potuto ho dovuto mettere il prodotto agricolo ma verde se avessi messo agricolo probabilmente si sarebbe pensato appunto agli agrosistemi si sarebbe pensato alla frutta alla verdura a quelle immagini no che sono ormai di uso comune che no se sparissero le api allora fotografia bella colori il supermercato pieno di verdure di frutta colorata eccetera e senza le il mondo senza le api fotografia in bianco e nero con gli scappali vuoti benissimo dall'impatto ma io ci penserei un po' magari comincierei a mettere anche il mondo senza le api metterei qualche albero rinsecchito metterei un suolo bruciato dalla siccità spaccato dalla siccità un suolo desertico ecco qualcosa che possa ulteriormente visto che andiamo sullo shock che possa scioccare chi vede queste immagini e comunque se noi riprendiamo la filiera e quindi al posto di miele ci mettiamo verde quindi non soltanto l'agricoltura e i suoi prodotti che ci fanno che ci sostengono ma ci mettiamo l'ambiente intero tutto ecco che abbiamo la filiera che in realtà è impariata capitale naturale le api capitale naturale disponibilità di armi e espertise degli apicoltori quindi ecco che le api sono le api ma a me piace e così diciamo in qualche modo abbiamo forgiato diciamo il marchio cooperation sì api ma anche apicoltura non certo perché gli apicoltori sono le vestali del mondo intero o della conservazione o della difesa degli ecosistemi ma gli apicoltori sono appunto quelle persone che ci lavorano e comunque sono il campanello d'allarme lo sono stati sono i guardiani in qualche modo di quella di questo servizio ecosistemico anche se non completamente non totalmente grazie a Dio fatto dalle api da miele ci sono tanti altri tipi di api gli impollinatori in genere insomma sono tantissimi anche altri gli impollinatori ma che sappiamo in effetti essere in degrado essere in declino noi in qualche modo dobbiamo opporci a questo declino lo facciamo come settore ma abbiamo portato alla luce un problema che è diventato un problema di dibattito pubblico di dibattito mondiale certamente non come non con la stessa risonanza che poteva avere venti o trent'anni fa vado oltre il punto il punto diciamo focale noi non riusciamo a farci pagare perché vedete anche questa detta e ridetta tante volte ma sull'apicoltura siamo entrati ormai in questo ambito preciso è api e apicoltura ma perché noi sull'apicoltura otteniamo degli aiuti e non otteniamo dei pagamenti eppure è ormai dimostrato non certo per quello che sto dicendo stasera che a sua volta è un miserabile diciamo riassunto delle note delle osservazioni fatte dal mondo scientifico una letteratura vastissima perché noi apicoltori non riusciamo a ottenere un pagamento e quindi non non un aiuto ma un riconoscimento al servizio ecosistemico che pure in qualche modo noi salvaguardiamo allora e qui voglio portare un esempio concreto l'esempio è quello dell'Operation Pollinator che ha visto attraverso un PSR il PSR del 2007 2013 credo con l'inizio presentazione ufficiale in Umbria nel 2010 in cui Singenta ha presentato un progetto e in collaborazione alla regione dell'Umbria con la Russia di allora con l'Università di Perugia ha ottenuto il finanziamento della PSR per portare avanti questo tipo di operazione a difesa della biodiversità a tutela a difesa e per incremento della biodiversità vediamo il protocollo è vedete leggo con voi le parti azzurre blu scusami vediamo la tua presentazione prova a ripigiare share screen ma non l'avete vista finora o non no purtroppo no perché non avevamo capito se la stessi mostrando o meno la stavo mostrando però evidentemente non è andata eppure sembrava di sì ma adesso per uscire un attimo chiedo scusa adesso non vorrei intralciare però o rallentare il lavoro devi guardare nella finestra di zoom quindi nella finestra di zoom nella barra in basso vicino all'icona della chat del fumetto c'è un'icona share screen dovresti vedere sì certo ma infatti mi dice che devi pigiare lì e poi selezionare la presentazione adesso la vedete no almeno io no non so gli altri no no allora non faccio altro che cliccare sulla presentazione share screen vai su share screen e poi vai ti compaiono quattro esatto quattro finestre apri screen a quel punto è il tuo poi non posso andare avanti a farlo non so cosa perché si dovrebbe vedere non la vedete no adesso sì la vedevamo no adesso vedo mi spiace Luca dovrò ripetere la lezione evidentemente guarda fai allora come ti ha detto Lucina vai sulla pagina dove stai parlando dove vedi a tutti noi ce l'hai davanti al centro trovi sul magico tasto verde condividere lo schermo mi si apre e quindi mi compaiono le schermate fra cui quella della presentazione clicco sulla sulla ecco ok è comparsa benissimo è comparsa adesso sì giusto la vedete tutti no ok ok fatto allora a questo punto possiamo leggere insieme vabbè tanto comunque non c'era niente di divertente se non diciamo sintetizzato quello che ho detto quindi però in questo caso può valere alla pena di leggere per focalizzare la nostra attenzione quindi in cosa consisteva questa sperimentazione ripeto il cui capofila era singenta poi spenderemo due parole su singenta ma solo due quindi il protocollo è un mix di leguminose erba medica trifoglio colza eccetera per creare delle bordure fiorite a vantaggio degli avvantaggio degli insetti pronubi al fine di garantire la fioritura costante da maggio a ottobre un fine nobilissimo gli agricoltori andiamo sotto sempre gli agricoltori sono stati in grado di ottenere pagamenti diretti per le misure agroambientali ancora su dieci ettari coltivati con un ettaro sotto il protocollo di operation pollinettron gli agricoltori potrebbero ricevere fino a 1270 euro in pagamenti annuali è un'azione nobilissima il progetto da chiunque venga fatto perché dico chiunque venga fatto perché Singenta che pure ha portato avanti era perché è stata assorbita credo da qualche azienda cinese attualmente era una multinazionale dell'agrochimica che produceva produceva quei prodotti neonicotinoidi che abbiamo finalmente come apicoltori dimostrato che uccidevano le api in modo subdolo cioè non manifesto non c'era non c'era nemmeno l'evidenza scientifica sono dovuti passare vent'anni prima di arrivare a questa evidenza scientifica quando il ministero dell'agricoltura ha vietato in Italia poi il divieto è passato a livello europeo ha vietato l'uso di questi neonicotinoidi Singenta con Bayer ed altri si sono opposti e hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato perché dicevano che non c'erano prove sufficienti che gli apicoltori stavano inventando hanno perso il ricorso al Consiglio di Stato evidentemente e quindi voglio dire benissimo si fanno azioni per la tutela della biodiversità è stato in questo momento in questo preciso momento cioè ascoltando questa presentazione esattamente dieci anni fa che è venuta fuori Cooperation allora se c'è un Operation Pollinator che venga fuori una Cooperation e cioè evidentemente gli apicoltori nonostante queste misure fossero a favore degli impollinatori nonostante gli impollinatori siano essi stessi un servizio ecosistemico venivano disconosciuti sotto questo profilo che è il profilo del pagamento dei servizi ecosistemici era probabilmente il caso di far sentire forse di più forse in modo più allargato la nostra voce e quindi proprio da questo nasce Cooperation nel cui ambito poi nella prostituzione eccetera e la storia è quella che ha fatto Lucia quindi non la ripeto e vado avanti ma si può fare qualcosa beh a mio avviso da quel fatidico 2010 da quella fatidica nascita di Cooperation noi abbiamo provato più volte sia in Umbria ma anche in altri abiti ma a noi interessa l'Umbria siamo in Umbria abbiamo provato a farci pagare ci sono riusciti ci hanno detto di no con tanto gran dispiacere non ci siamo riusciti ci sono riusciti due anni fa gli apicoltori calabresi che hanno ottenuto di questo ne abbiamo parlato Lucia lo ricorderà nel convegno di Foligno a Mielin Umbria appunto un paio d'anni fa fra l'altro ospitando gli amici palestinesi quindi in un ambito appunto internazionale beh gli apicoltori calabresi sono riusciti ad ottenere diversi milioni di euro ovviamente bisogna rispettare un disciplinare ci sono delle regole però sono riusciti ad ottenere questi fondi che sono un pagamento ecco quindi a quelle domande che vi facevo qualche sulle quali potrei rapidissimamente tornare indietro per un secondo ecco qual è la funzione ecologica del servizio certo è il servizio ecosistemico di impollinazione di tutela della diversità la funzione socio-economica ma certo che c'è perché comunque ci sono degli operatori dei professionisti che ci lavorano ma non è solo quella la funzione socio-economica non è solo quella la ricaduta economica è una ricaduta molto più vasta sulla quale tornerò fra un secondo è possibile assegnare un valore di scambio ma certo che è possibile è una delle tappe che noi ci prefiggevamo dopo Cooperation che comunque ha dimostrato l'importanza dell'ecoservizio fatto dalle api ma anche la monetizzazione se ciò deve essere che ciò sia anche questa è possibile ed è notizia dell'altro anno peraltro che l'Unione Europea la Commissione la Commissione Europea ha dato un valore ben preciso al valore di produzione di un alveare Umbro perché sono divisi per regione ebbene un alveare Umbro vale 221 euro il valore di produzione di un alveare è di 221 euro io mi chiedo dove siano questi 221 euro chi li ha riconosciuti a chi vanno come vengono calcolati qual è la loro ricaduta esiste una relazione tra il fornitore ma certo che esiste una relazione tra un fornitore e chi ne usufruisce ma in termini veramente biechi vado rapidissimo verso la conclusione basti di pensare al servizio di impollinazione è quando gli agricoltori pagano gli apicoltori in pochissimi casi parliamoci chiaro veramente in rarissimi casi di solito succede il contrario l'apicoltore che regala un vasetto di miele all'agricoltore che ha avuto la cortesia e la carità e gli ha fatto la carità di ospitarlo sui propri terreni tuttavia questo può essere e cioè gli agricoltori pagano gli apicoltori a portargli le api ma è questo davvero si esaurisce in questo ecco come vado quindi rapidamente alla fine e come cerco comunque di prospettare un coinvolgimento da parte dei comuni e vedete ci penserà qualcun altro dell'odevolissimo fa parte del come dire del disciplinare dei comuni amici delle api i comuni amici delle api devono sponsorizzare l'apicoltura la devono promuovere devono fare i giardini delle api devono fare le scuole devono fare gli apiari scuola come è stato lodevolmente fatto proprio nel comune e sarà Paolo Ferraldeschi a parlarci di questa è un'iniziativa eccellente che dovrebbe essere fatta in ogni comune ma non è ancora sufficiente tutto ciò sarà poco significativo se noi non andremo a toccare i tasti o le corde sensibili noi abbiamo bisogno di questo riconoscimento è necessario ma non per noi categoria e cerco di dirvi anche come allora esiste questa legge del 221 del 2015 esiste in vigore è stata approvata è stata propulgata presso il ministero dell'ambiente esiste il comitato per il comitato esecutivo per il capitale naturale ogni anno c'è un rapporto sullo stato del capitale naturale e devono essere forniti elaborati dei dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie io mi chiedo non lo so io non lo so mi chiedo chi tra noi lo sappia e viene fatto viene fatto questo controllo questo monitoraggio e se viene fatto chi lo fa e se i dati vengono forniti su quale scala con quale misura con quali parametri ci devono essere dei parametri con quale misurare non fare un controllo o migliorare qualcosa ci vorrà chi dà questi dati io non ne ho mai saputo nulla c'è un altro articolo sempre di questa stessa legge che parla appunto di pagamenti dei servizi ecosistemici che ci dice che fra l'altro i beneficiari finali degli introiti così ottenuti dovranno essere i comuni ecco dove mi piace mettere in rilievo come noi apicoltori possiamo anche fare delle battaglie che sono battaglie che riconosco apertamente essere a favore del settore ma che non necessariamente sono legate come dire alla nostra tasca e di qualche anno fa è venuto di moda il principio il principio etico-politico non so come dire di dire che le tasche degli italiani non bisogna mettere le mani nelle tasche degli italiani e quindi su questo spesso ci sentiamo dire che questa è una delle strategie politiche da seguire ma questo ha portato in realtà a un principio a mio avviso altrettanto degradato di etico-sociale non so come definirlo di dire che vabbè allora basta che io non abbia nelle mie tasche qualcosa e la cosa non mi riguarda bene io dico che gli apicoltori nonostante possono anche non avere direttamente nelle loro tasche qualcosa perché al loro reddito ci pensano da sé ci pensano da soli beh comunque questo pagamento deve essere richiesto e non è detto che vada agli apicoltori ma può andare come scritto fra l'altro nella legge ai comuni alle aree protette alle fondazioni i bacini montani integrati organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni ecco guardate bene come il nostro slogan APE bene comune in qualche modo ritorni e ritorna sempre anche quando in realtà si tratta di gestione collettiva dei beni comuni benissimo gestiamo collettivamente le api non certo andando a guardare quello che succede in un alveare ma gestendo una politica di settore ecco come i comuni possono intervenire e qui in ultimo veramente faccio l'appello al sindaco innanzitutto ringraziandolo per la sua iniziativa perché è evidente come lui ha fatto riferimento a quel comune del Trentino comune di Marse che ha fatto questa iniziativa Bellissima è stata contrastata in un modo feroce da alcuni amministratori e da una notevole mole di agricoltori ma la strada da seguire se ha bisogno della coercizione che è sempre diciamo qualcosa di molto 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 delicato anche nei rapporti che ci devono essere fra questa istituzione che è un'istituzione di base a diretto contatto con i cittadini quindi insomma bisogna andarci certamente cauti ma le ordinanze non ci sono soltanto le ordinanze ci sono anche i provvedimenti adesso io non so come il comune potrà legiferare perché questo è il termine potrà legiferare in proposito poi c'è anche Lucia che fa parte ormai diciamo lavora in un consesso diciamo di amministrazione comunale io ignoro questo tipo di meccanismi ma esistono dei meccanismi che comunque permettono di legiferare anche in questi termini cioè un provvedimento da quello che so è fatto anche in modo preventivo non soltanto un'ordinanza che è sull'urgenza o su qualcosa che ci riguarda immediatamente ma è qualcosa che può essere anche programmabile è coercitivo ma è programmabile ecco a mio avviso sono queste le strade sulle quali intraprendere un cammino che è sicuramente un cammino difficile ma è un cammino io credo necessario e ineludibile grazie bene grazie vincenzo per questa lexio magistralis come sempre veramente è un piacere ascoltarti hai posto molti temi all'attenzione in primis questo su cui hai insistito giustamente di fare di più affinché si arrivi al riconoscimento anche economico del prezioso e insostituibile servizio ecosistemico fornito anche dall'apicoltura quindi questo è una responsabilità delle istituzioni come responsabilità anche delle istituzioni di cercare di appunto porre in atto delle azioni anche decise determinate per frenare delle attività che siano evidentemente nocive per la biodiversità e questo appunto è il caso lo citavi anche tu di alcune di queste sostanze chimiche e pesticidi che purtroppo di cui purtroppo ormai ce n'è un grande uso allora io vorrei adesso aprire l'approfondimento su questo tema appunto dei pesticidi su cui è stato citato l'esperienza del comune di Malles sulla quale anche il sindaco di Parrano ha espresso intenzione di voler avviare un'azione magari che arriverà in qualche modo a trovare la forma giusta per bandire l'uso di queste sostanze nocive non solo per le api poi probabilmente ma anche per noi stessi esseri umani e quindi darei la parola a Claudio Porrini Lucia solo un attimo per che poi così chi interviene può dire la sua se vuole noi pensiamo a due doppio binario di riformulare lo statuto impostandolo sul discorso della biodiversità in generale diciamo così e poi invece fare un regolamento certo diciamo così adesso per fare un esempio pratico il piano regolatore è il regolamento edilizio il piano regolatore immagina il paese del futuro quanto deve crescere come deve crescere invece il regolamento edilizio sono norme che dicono quanto deve essere la casa l'aspetto energetico e così via dicendo l'altra cosa che ha tema che butto sul tavolo noi lavoriamo da tempo su questo discorso dei servizi ecosistemici soprattutto sul discorso dei boschi perché lì il concetto è chi produce anidride carbonica deve pagare quelli che invece fanno l'ossigeno credo che si potrebbe fare un discorso più ampio se ci avete voglio io l'unico che mi dà una mano è Luca Lobianco non so se lo conoscete che è quello che è la scritta tecnicamente diciamo così la legge insieme a altre due tre persone però insomma senza grandi quindi ecco qui ovviamente il tema è che c'è tutta questa proprietà demaniale quindi la regione interessata come per i BIM diciamo così a fare qualcosa che poi porti su la gestione del bosco delle risorse perché poi di questo stiamo perché quelle risorse nel caso dell'aria vanno usate solo nei boschi non è che si possono usare per fare le scuole diciamo così questo è evidente però ecco quello che hai introdotto te credo che potrebbe rimandare un altro approfondimento proprio seminariale dire come fare un'azione sistemica io ne ho parlato con il sottosegretario all'ambiente di quello che ci dà di questo rapporto che noi neanche sapeva che esisteva diciamo così e quindi ecco ci potremmo ritornare scusate l'interruzione grazie grazie ciò mi consola molto quello che che ho ascoltato mi consola molto e spero si possa fare davvero qualcosa bene bene la parola la darei adesso a Claudio Claudio ci sei? sì mi sentite? mi sentite? mi sentite? molto bene sì ok ok buongiorno a tutti no io provo subito a vedere se riesco a condividere lo schermo in modo da non fare come Vincenzo prima è andato via come un treno ci siamo accorti solo a metà della tua presentazione che stavi eri a pieno schermo però e quindi c'era tutta la tua bellezza che noi abbiamo goduto insomma la vedete? sì Claudio vai pure si vai vai si vede vai aspetta che la va in presentazione ok no mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto all'ultimo intervento del del sindaco che di andare su questi due binari quello dell'aumento della biodiversità ma contemporaneamente anche la diminuzione dei pesticidi perché non è possibile andare solo su una delle due non è assolutamente possibile e questo è uno dei temi di questo breve intervento che farò come tutti sapete spero insomma non voi che ascoltate ma insomma chi è in diretta facebook l'iniziativa comune amico delle api ha questo decalogo che viene sottoposto è una proposta di delibera che viene sottoposta ai comuni per la loro firma e sono dieci punti e cinque di questi punti in particolare il tre il quattro il cinque il sei e il sette parla di pesticidi parla di di prodotti fitosanitari che devono essere usati solo in caso di bisogno che bisogna quando devono essere usati bisogna ottemperare tutte le norme di utilizzo dice che non bisogna usarli negli ambienti negli ambienti urbani insomma rifacendosi al PAN al piano appunto nazionale degli antiparassitari e quindi è una diciamo così una proposta di delibera molto importante da questo punto di vista sui pesticidi quindi fa bene il sindaco a insistere e a cercare di fare quello che è stato fatto in Alto Adige a Malles e cercare di ridurre se non annullare appunto l'uso di questi prodotti anche perché come sappiamo questi intervengono pesantemente sulla sopravvivenza delle nostre api stiamo parlando di api da miele faremo un accenno anche sulle altre vedete che i problemi però delle api sono diversi e ho evidenzato solo i pesticidi in questo caso ma bisognerebbe parlare anche di tutto il resto i pesticidi comunque la fanno da padrone almeno dal mio punto di vista dalle ricerche che abbiamo fatto entrano comunque anche in zone non agricole in modo trasversale a interferire sulla sopravvivenza delle api anche perché quando si fanno questi trattamenti nei campi coltivati come vedete da questa immagine i prodotti chimici oppure i trattamenti disinfestanti nei centri urbani contro le zanzare ma ci sono anche quelli degli afidi eccetera che sono contemplati poi tra l'altro nella delibera i pesticidi vanno in giro non è che tornano a casa vanno in giro vanno in giro e si deposino soprattutto come è stato visto in questa ricerca pubblicata su Nature tra l'altro si disperdono per il 94% nell'ambiente cioè quella famosa nuvola che avete visto solo poco arriva all'insetto che noi dobbiamo combattere pochissimo una parte circa meno dell'1% e una parte rimane sulla pianta e il resto si disperde nell'acqua nel suolo nell'aria è chiaro che questo determina tutta una serie di contaminazioni di fenomeni di permanenza di questi di questi prodotti anche dopo ad esempio questa è una ricerca sui sui neonicotinoidi anche dopo un anno dal loro dal loro uso si ritrovavano ancora nelle non sulla cultura che intanto era stata raccolta ma sulle fioriture spontanee quindi lunga permanenza di questi prodotti le api andando in giro facendo questi voli questi numerosissimi voli che fanno per andare a raccogliere le varie sostanze dal netto al polino all'acqua alla propoli e ne possono venire in contatto vedete un po' queste immagini e quindi soffrire della loro della loro presenza il contatto viene sempre in gestione per contatto diretto per contatto diretto insomma è una cosa abbastanza complessa ma noi possiamo trovare questi pesticidi nell'ambito dell'alveare soprattutto nel polline perché il polline come vedete è quello più esposto vedete che c'è un valore medio da questa ricerca fatta alla fine degli anni 90 di un 0,50 milligrammi su chilogrammo dopodiché la seconda barriera chiamiamola così sono le api quelle più esposte e per ultimo il miele il miele è quello meno contaminato però insomma non è che non è è a residuo zero quindi bisogna stare un po' autentico su questo da un'indagine appunto facendo una disamina di queste tre matrici abbiamo visto ad esempio che nel polline in questo progetto BINET in cui avevamo tutte queste postazioni in dislocate nel nostro territorio nazionale avevamo una presenza di pesticidi nel pane d'api cioè il polline presente all'interno delle cellette che si aggirava sul 50% cioè il 50% dei campioni aveva più o meno aveva almeno un residuo di pesticidi però in Europa come vedete siamo in buona compagnia perché anche in Francia sfioriamo il 60% in Germania addirittura il 75% dei campioni eccetera eccetera questi da quest'altra grafico si vede quali sono quelli più presenti quindi dai piretroidi fungicidi gli organosossuorici eccetera e quindi è chiaro che questo bottino che le api fanno questo polline insomma risulta un po' compromesso dall'uso spesso di sennato che si fanno dei pesticidi da quest'altra indagine di Greenpeace si è visto che a livello europeo in 12 paesi europei il 67,3% dei campioni di polline risultavano contaminati e il 68% del pane d'api insomma c'è qualcosa che bisogna che facciamo assolutamente queste sono indicazioni ecco guardate da quest'altra immagine solo per fare un lancio poi nell'area urbana perché quando si parla di paesi di comuni parliamo sì di un'area agricola ma anche di un'area urbana allora si dice no? come spesso si sente eh portiamo le api in città perché lì c'è un uso meno di pesticidi eh non è vero anche in città certo c'è un uso anche nei paesi c'è un uso minoritario ma insomma anche lì se ne usa infatti da quest'indagine si vede che sì la maggior parte dei residui nel polline si trova nelle aree agricole ma anche nelle aree urbane negli alveari che noi mettiamo nelle città e che di cui facciamo allenare si trova pesticidi anche in quel caso e quindi gli effetti sulle api sulle api sono questi che gli apicoltori bene o male conoscono e questi sono velenamenti intensi no? queste masse d'api di fronte all'alveare ma poi altri casi altre situazioni sono quest'altra cioè spopolamenti non si trovano api morte si trovano solamente l'alveare spopolato e questo nella maggior parte dei casi è determinato dal fatto che essendo le api degli insetti complessi essendo le api degli insetti altamente sociali hanno dei meccanismi molto sofisticati di comunicazione di memorizzazione di orientamento di percezione che se vengono scombinati da anche da piccolissime quantità di questi pesticidi è chiaro che l'api non funziona più tra virgolette cioè non ha non svolge più le sue anche se è viva ma non svolge più le sue mansioni quelle normali che deve fare all'interno dell'alveare il miele dicevamo che il miele è quello meno contaminato dalla tabella precedente però questa è un'indagine anche questa non tanto lontana nel tempo 2014 si è visto che la maggior parte dei residui si trovano soprattutto nelle aree dei residui nel miele soprattutto nelle aree intensamente coltivate nelle aree industriali e nel miele che si può comprare nei mercati ma invece nelle zone dove c'è una produzione dove c'è la produzione è biologica dove c'è un'agricoltura biologica non si ritrovano residui quindi anche questo è un dato interessante molto interessante che noi dobbiamo tenere presente per non parlare anche dell'ultima di questo benedetto erbicida che ha contaminato negli anni a livello mondiale il nostro pianeta e anche nel miele loro si ritrova il glifosato queste sono indagini condotte negli Stati Uniti ma anche in altri paesi tra cui anche l'Italia e l'Europa si trovano quantitativi quantità sia al di sotto ma anche al di sopra di quelli consentiti di questo glifosate sempre parlando di miele questa è un'altra indagine del 2017 dove si è visto che il 75% dei campioni di miele prodotti al mondo contiene almeno un neonicotinoide no conteneva almeno un neonicotinoide e questo insomma è un dato che ha sconvolto un po' e che è stato determinante anche in seno al divieto dei neonicotinoidi prima parziale in alcuni paesi come l'Italia poi a livello europeo ma solo alcuni ancora adesso ci sono ancora dei neonicotinoidi consentiti per l'uso agricolo ma diciamo che quelli più pericolosi sono stati tolti bisogna lavorare parecchio anche per tornare gli altri chiaramente però sappiamo che non ci sono solo i neonicotinoidi in giro ma ci sono nelle nostre campagne che vengono usate ma anche i carbamati i fosforganici i piretroidi in formulazioni varie come i regolatori di crescita i miconcapsulati eccetera eccetera e anche non solo api questi prodotti non vanno a colpire solo le api da miele ma anche gli altri poidei i silfidi i ripidoti che sono tutti insetti utilissimi di cui noi ne abbiamo un estremo bisogno infatti da da qualche tempo quando noi parliamo di ap di apicultura quando parliamo di api parliamo di un mondo e non solo delle api da miele che sono sicuramente importanti perché hanno anche un risvolto economico però dobbiamo considerare anche tutti gli altri organismi che devono sopravvivere che ci danno appunto questi loro servizi che forniscono questi loro servizi allora cosa si può fare cosa si può fare in ambito agricolo ad esempio in ambito agricolo bisogna fare una vera difesa integrata questo lo dico sempre è il primo passo della vera difesa integrata è quella di prevenire una eventuale infestazione e per prevenire bisogna strutturare i territori noi non possiamo fare difesa integrata in un territorio devastato o una monocultura come si può vedere in questo caso questo è una zona avvitata come potete vedere bisogna cercare di trasformare questi territori prima di fare una vera difesa integrata attraverso una scienza che si chiama l'agroecologia che ci dice come intervenire cosa mettere le siepi appunto l'inserimento delle siepi delle siepi adeguate chiaramente non qualsiasi pianta che ci capita a tiro o le bordure fiorite eccetera in modo da andare a diversificare quel famoso territorio e quindi poter fare della difesa integrata e quindi usare molto meno i pesticidi ma contemporaneamente se noi andiamo quello che dicevo prima e che ribadisco concordo con il sindaco se andiamo a aumentare la biodiversità in termini di siepi di bordure di quant'altro dobbiamo contemporaneamente diminuire i pesticidi e usarli o usarli solo in caso di estremo bisogno altrimenti come è scritto lì queste bordure queste siepi diventano le piante killer come noi attraiamo gli insetti e poi non diminuiamo l'uso dei pesticidi ma è come spararsi in testa per non dire da altre parti ma non scherziamo su queste cose le due cose dobbiamo andare via parla della mente e questo è uno dei gravi errori che ha fatto che ha fatto ma d'altronde poteva fare altrimenti quel progetto Operation Pollination di cui parlava prima Vincenzo chiaramente loro non potevano dire che di diminuire l'uso di pesticidi ma è stato un gravissimo errore quindi è stato anche per questo che è fallito insomma e ad un certo punto è stato abbandonato ma in ambito urbano che cosa si può fare in ambito urbano come ripeto fa parte anche del territorio comunale bisogna fare anche qui di tutto per proteggere le api e cercare di utilizzare al meglio quelli che sono i prodotti che bisogna usare in qualche caso quindi ci sono ad esempio e questo lo recita il PAN di cui dicevamo prima le aree urbane off limits dove non si possono usare che sono i parchi giochi ma anche i cimiteri le zone più le zone di incontro c'è tutto un elenco di aree dove non è possibile fare gli interventi a meno che non ci siano delle emergenze sanitarie come ad esempio le famose West Nile la Cicungunia insomma tutti questi problemi che ci portano gli insetti tipo le zanzare e poi anche cercare di fare una buona gestione del verde ornamentale del del verde pubblico con anche quando si usano questi queste nuove tecniche nuove insomma tra virgolette nuove come l'endoterapia usare dei prodotti che siano selettivi per le api perché comunque le api ne vengono in contatto come è successo in questo caso denunciato da un apicoltore nel centro di Genova Martino Firullo che ha visto che un trattamento di questo tipo con l'endoterapia sui tigli in fiore ha determinato una moria questi sono alcuni degli insetti che impollinatori trovati ai piedi di queste piante ma c'era uno sterminio insomma no quindi bisogna cercare di avere una gestione oculata anche con le nuove tecniche nuove sempre per per modo di dire come anche la fare una buona lotta alle zanzare le zanzare tigre è una lotta che non si può ridurre solamente ai trattamenti adulticidi quelli si possono fare solo in caso di estremo bisogno e soprattutto in caso di emergenza sanitaria ma si devono adoperare sia gli enti pubblici che i cittadini per fare una lotta coordinata e questo è una grande azione civile secondo me quando un comune riesce a fare una buona lotta da zanzare e tenere sotto controllo le popolazioni di questo insetto molesto è sicuramente un'ottima cosa poi certo diminuire i pesticidi e poi creare questi angoli di biodiversità stiamo sempre parlando di ambiti urbani e aiutare gli impollinatori con queste con queste strutture con questi biotel o nidi per poidei che possiamo mettere anche nel nostro giardino ma anche sul nostro balcone se vogliamo ma poi c'è un'altra azione che bisogna fare quella di educare i consumatori perché se il consumatore continua a richiedere dei prodotti esotici prodotti belli senza neanche una rosura senza una scafittura o uno morso di qualche insetto la famosa concetto della pornomela di Celiana Memoria è chiaro che l'agricoltore poi è costretto a fare di tutto per servire questo piatto insomma per portare al mercato appunto queste derrate così belle quindi bisogna educare il consumatore anche in questo senso perché lui determina il mercato il consumatore determina il mercato quindi siamo tutti noi e poi anche cercare di fare delle azioni civili come ad esempio il firmare questa petizione che è stata spostata a marzo del 2021 da cui termine è stata spostata quella data doveva finire a settembre di quest'anno dei Safe Bees and Farmer che è una è un'azione a livello a livello europeo per cercare di frenare e di regolarizzare al massimo l'uso dei pesticidi che come sapete insomma è ancora molto cospicuo nei nostri territori vi ringrazio dell'attenzione ed eventualmente apriamo una discussione grazie grazie mille a te Claudio e allora direi che adesso possiamo dare la parola in piena continuità con insomma questi due filoni di lavoro che tu ci hai indicato quello da una parte di lavorare per aumentare la biodiversità e dall'altro lato cercare di ridurre fortemente fino possibilmente ad eliminare l'uso dei pesticidi in che cosa tu citavi il caso dell'apicoltore di Genova che appunto ha dato un campanello di allarme nel momento in cui si è reso conto che una certa pratica causava mortalità di molti insetti pollinatori ecco quindi e questo d'evidenza il fatto che gli apicoltori e le loro associazioni possono essere un validissimo alleato anche dei comuni in azioni di salvaguardia della biodiversità delle api dell'apicoltura ecco su questo tema darei subito la parola a Luca Ciampelli che è vicepresidente di APAO l'associazione dei produttori apistici Umbri a te la parola Luca grazie mi sentite credo ok niente condivido anch'io lo schermo così partiamo con le slide intanto ringrazio il sindaco dell'invito e ancora i complimenti per l'idea che ha avuto sia della piada di comunità che del giardino mellifero che ancora meglio insomma è ottimo per quello che riguarda un attimo solo l'apicoltura allora che cos'è la APAO la APAO è come tutti sappiamo e ringrazio qui Vincenzo che è stato presidente fino a pochi giorni fa insomma ed è ancora presente collabora con noi e ci do una mano la APAO è l'associazione dei produttori apistici Umbri che diciamo è la prima associazione in Umbria non diciamo l'unica ma è la più importante e questo che vuol dire vuol dire che APAO rappresenta oltre il 50% dei apicoltori presenti sul territorio Umbro apicoltori che dislocati sul territorio sono presenti in oltre l'80% dei comuni Umbri questo che vuol dire che un'associazione può fare tanto può fare tanto sì per gli apicoltori ma anche per i comuni e di più per i comuni amici delle api vado avanti con la slide eccolo qua siamo presenti come detto su tutto il territorio oltre il 50% degli alveari denunciati nel territorio della regione Umbria sono rappresentati dai nostri dalla nostra associazione abbiamo due sedi Foligno e Magione Foligno è la sede principale è quella più operativa più qua andrò poi avanti vi spiegherò un attimo cosa ha fatto il comune di Foligno per l'associazione collaboriamo con l'istituto agrario Cioffelli di Toddi per quello che riguarda le sale le aule i corsi di HCCP e quello che riguarda proprio il contatto diretto con l'agricoltura ecco quello che ha fatto Foligno è importante nelle buone pratiche ho poca connessione un attimo ok ok mi sentite? ah ok allora che ha fatto Foligno? Foligno per le buone pratiche del comune di Foligno ha dato uno spazio che è quello che avete visto nell'immagine di prima dove produciamo l'idromele tra le altre cose e collabora e organizza Mielinubria la festa più importante dell'apicoltura chiedo scusa hai avuto un problema con la connessione purtroppo ecco è ripartito ora nelle buone pratiche il comune di Foligno quello che dicevo prima ha collaborato per anni oltre 23 anni mi corregga Vincenzo se sbaglio per l'organizzazione di Mielinubria questo che vuol dire? vuol dire che un comune può fare tanto e può fare molto per l'apicoltura questo perché? perché è un'associazione che conta su un territorio un territorio come il nostro che diciamo non è molto ampio però è un territorio importante perché ci dicono che siamo il cuore verde d'Italia quindi se questo è vero l'apicoltura deve dare e fare molto detto questo andrei subito avanti agganciandomi subito a quello che ha detto prima Claudio dove le api sono sì sentinelli della qualità dell'aria e l'apicoltore deve saper prendere questi segnali dal territorio vabbè qua c'è tutta la descrizione presa chiaramente da internet non è niente di nuovo insomma lo sappiamo che come ha detto anche Claudio prima le api sono prima ad avvertire il problema della qualità dell'aria allora interventi preventivi a seguito di segnalazioni quello che ha detto Claudio prima che è avvenuto anche sul nostro territorio ovvero l'apicoltore ma anche qualsiasi altro cittadino acquisita la notizia di possibili distribuzioni di sostanze inquinanti sul territorio può segnalare all'associazione deve segnalarlo che immediatamente interviene con gli organi competenti con le ase con i carabinieri o con quale altro organo competente presente sul territorio è successo in un comune amico delle api tra l'altro dove il nostro apicoltore ha avuto la notizia che sarebbero stati dati dei trattamenti sul mi lancerò mi funziona chiedo scusa ma ho problemi di connessione Lucia un attimo mi riaggancio fra poco intanto se passiamo la parola e riprendo in mano grazie credo di risolvere subito d'accordo non ho capito Luca vuoi che passiamo al un attimo un attimo mi si blocca va bene allora magari nel frattempo possiamo dare la parola a Paolo Paolo per l'adempia apicoltore che ringraziamo per essere qui con noi oggi e per tutto l'impegno che da e la passione che da anni mette nel suo lavoro anche in questa bella esperienza che appunto ha portato avanti insieme al comune di Pardano e che adesso abbiamo molto piacere di ascoltare da lui questa esperienza di natiario di comunità ci sei Paolo? un po' ci so e un po' ci fo a te la parola raccontaci com'è andata che cosa avete fatto esattamente intanto un saluto a tutti a Valentino che ha sempre supportato la cosa e è sempre sensibile a questi a questi argomenti anche per l'iniziativa un saluto a tutti gli altri a Vincenzo il mio presidentissimo a Lucia anche lei sempre disponibile Luca il nuovo vicepresidente e a Claudio che ogni volta ascolto questa volta ascolto e basta non vedo sempre con piacere e a tutti quanti dunque come nasce questa storia dell'apiario di comunità intanto si partiva da comune amico delle api e quindi era per dare un piccolo contributo alla sensibilizzazione poi delle persone così fra chiacchiere fra amici ci facciamo un'aiola facciamo una bordura poi questa passeggiata intorno al castello ci facciamo un viale e cominciamo anche a chiedere un po' una mano su questo ci facciamo un apiario di comunità che vuol dire facciamo un corso base di avvicinamento all'apicoltura però che è stato strutturato con tantissime prove pratiche sul campo che sono quelle che secondo me spesso mancano è successo svariate volte di avere a che fare con nuovi apicoltori che hanno fatto un corso ma poi tecnicamente non ero neanche in grado di aprire un'arnia da soli e controllarla quindi ho fatto un corso diciamo dallo sciame fino alla smieratura ai trattamenti sciame artificiale abbiamo fatto un po' tutte quelle che sono le pratiche apistiche e credo che sia stato un buon corso stiamo già riparlando per il prossimo anno di proseguire la cosa e i partecipanti di quest'anno mi daranno una mano poi il prossimo anno con le nuove persone che saranno iscritte al corso secondo me è stata una bellissima esperienza perché comunque sia anche se forse di 14 partecipanti intanto se uscisse anche un solo apicoltore sarebbe comunque un successo ma sicuramente è cambiato il loro modo di di vedere percepire e capire le api e l'importanza nell'ecosistema quindi insomma questo è stato un po' il motore che ha generato tutto la cosa è stata un po' poi limitata perché poi è ricaduta tutta su di me perché come spesso succede chi con una scusa chi con altra sono tutti venuti meno a dare un contributo e quindi sia sia le famiglie che poi anche tutte le case ho dovuto usare arnie mie usate eccetera però insomma è stata comunque una bellissima cosa e questo era insomma un po' il il progetto e la cosa che che ne è venuta fuori una domanda del parco le cose del futuro diciamo così sì ecco spero spero che nella primavera di poter fare vicino a questo apiario di fare insieme a tutti gli altri una un viale con tutte le piante mellifere importanti per per le api momentaneamente abbiamo solo trovato dei dei noccioli e dei ciliegi donati da un vivaio della regione e basta insomma però anche questo verrà comunque lavoreremo anche su questo per per il prossimo anno mi dicevi Lucia no era solo una curiosità per capire come avevate diciamo individuato le persone interessate a partecipare a questa esperienza dell'apiario di comunità anche tra c'erano anche i ragazzi giovani o donne guarda allora mettevo una locandina oltre che nei in qualche bar ma soprattutto ormai sui social e inizialmente erano 36 partecipanti e quindi era un po' dopo è venuto fuori la storia del covid e la situazione era un po' critica quindi poi ho fatto un'ulteriore selezione dicendo scusate ma per quest'anno il corso sarà solo per chi è veramente interessato all'apiario a gestire poi l'apiario che comunque è anche un esperimento sociale perché poi vede 14 persone che si devono mettere d'accordo sul giorno sull'orario quindi mi è piaciuto anche sotto quel punto di vista quindi ecco è nata in questo modo dove poi c'è stata una riselezione dei partecipanti abbiamo ridotto a 14 partecipanti una selezione naturale è venuta bene quindi comunque c'è stata una buona risposta quindi insomma direi se avete dovuto diminuire selezionare questa è una buona un indizio assolutamente sì infatti con Luca e con Fulvio Rosano il nuovo presidente si è detto che assolutamente va fatto un corso da PAU qui in primavera con visto la la richiesta che c'era anche perché noi siamo in una terra di confine quindi c'erano anche degli sconfinamenti che venivano dalla Toscana poi la zona della bassa del bassonese va bene grazie Paolo ricordati di mandarmi qualche foto e qualche riga dell'iniziativa perché vorrei condividerla sul sito dei comuni amici delle api ce l'ho già pronte e sarà forse questo il weekend è vero allora riproviamo a dare la parola a Luca se nel frattempo ha risolto il problema tecnico per concludere il suo intervento a te Luca sì Lucia ci sono ma niente non mi va la telecamera adesso e le slide quindi Vincenzo mi ha superato nella parte tecnica ci ascoltiamo dall'oscurità vai allora ci sono ci sono dicevo quello che può fare un'associazione quando sul territorio si ha il sintomo la presenza che siano stati dati dei trattamenti in periodi sbagliati e comunque in modalità sbagliate è successo più di una volta una in particolare Vincenzo mi darà conferma credo proprio quest'anno dove in un comune tra l'altro amico delle api un nostro apicoltore ha avuto la notizia che si sarebbero dati di lì a poco i trattamenti alle zanzare l'unica cosa che era nel pieno periodo di fioritura del tiglio dei viali alberati del comune questo avrebbe causato quel danno che poi Claudio ci ha riportato nel comune su del nord insomma e per fortuna l'associazione in tempo tempo debito è intervenuta con un comunicato al comune interessato il quale ha bloccato immediatamente il trattamento previsto di lì a seguito questo che vuol dire vuol dire che il singolo cittadino normalmente non viene ascoltato forse l'associazione ha un potere un pochino più forte quindi la nostra la nostra forza e la nostra comunicazione è di farsi dire accogliere queste segnalazioni che vengano sia dagli apicoltori che sono i primi interessati ma possono venire anche da qualsiasi cittadino e far voce grossa sulle istituzioni per far sì di fermare quando si può come è avvenuto per fortuna nel fatto che vi ho raccontato prima fermare ancora prima che avvenga il danno oppure intervenire con le dovute maniere ma con voce forte sempre per per far sì che queste cose non avvengano quantomeno più sia da parte dei comuni ma anche da parte dei dei cittadini o coltivatori che dir si voglia un pochino meno meno convinti del rispetto dell'ambiente insomma questo in primis seconda cosa come dicevo all'inizio siamo presenti in Umbria in Umbria sono presenti apicoltori sull'80% di comuni questo vuol dire che ogni comune o quantomeno i 28 comuni amici delle api potrebbero dare uno spazio non dico come apiario di comunità che sarebbe una cosa bellissima come è successo a Parrano ma uno spazio per l'apicoltore da inserire a poter inserire degli alveari per fare un controllo della qualità dell'aria questo sarebbe un'idea un progetto da portare avanti insomma abbastanza interessante perché mettere installare degli alveari in una parte centrale o comunque in una zona del comune dove poter poi controllare costantemente l'ambiente circostante attraverso il controllo di questi alveari e la moria delle api e analisi specifiche sarebbe un progetto molto grande insomma noi ci siamo come associazione faremo il nostro cercheremo di farci sentire laddove c'è bisogno insomma speriamo ecco che di poter fare qualcosa di più di quello che si sta facendo grazie Luca anche a te per questo contributo e io penso che l'incontro di oggi è stato molto importante per rilanciare veramente questa iniziativa e credo sindaco che conteremo anche su di lei per ripungolare gli altri 27 comuni almeno i nostri in Umbria che hanno aderito all'iniziativa e che probabilmente qualcuno se ne è dimenticato io mi impegno a ripungolare in primis il comune di Perugia e chiedo ovviamente con l'aiuto in collaborazione con Vincenzo e Luca Ciampelli dell'associazione della PAU sicuramente possiamo fare in Umbria sarebbe bello riaprire una sorta di laboratorio quindi rafforzare molto la rete e insieme rilanciare iniziativa e promuovere azioni concrete nelle due appunto direzioni che indicava Claudio dell'aumento della biodiversità da un lato e la riduzione dei pesticidi dall'altro oltre che al tema importante di lavorare anche per il riconoscimento anche economico dei servizi ecosistemici legati alla apicoltura io mi fermo qui ringrazio tutti e do la parola per le conclusioni voglio dire una cosa a Luca e anche per voi noi facciamo il monitoraggio della zanzara tigre cioè da luglio in poi ogni settimana vengono depositate delle vaschette con delle con delle asticelle che dovrebbero attirare queste zanzare tigre e poi queste stecchette vengono portate all'istituto zooprofilattico che conta le uova che ci sono noi abbiamo 50 postazioni lo facciamo ormai a diversi paesi qui vicino per esempio Figulle noi facciamo insieme a Figulle e viene fuori una cosa impressionante diciamo cioè non abbiamo mai però il problema esiste quindi forse adesso senza che voglio una consulenza indiretta però forse una delle cose da fare è farsi dare i dati di tutti i comuni quello posso recuperare io di tutti i comuni che fanno questo monitoraggio e con loro fare un approfondimento come procedere perché adesso più o meno tra un po' finisce questo monitoraggio perché ovviamente in inverno non credo che le zanzare depositano le uova occhio e croce diciamo così e quindi questi dati dovranno essere utilizzati per poi fare degli interventi a primavera loro proponevano il mese di maggio una fare una campagna massiva di diciamo così di chimica questa era un po' l'idea di istituto profilattico e quindi ecco forse questa potrebbe essere un'iniziativa umbra diciamo così no prendere tutti questi comuni e fare un discorso insieme assolutamente un'iniziativa concreta che che penso sia l'interesse di tutti assolutamente Sinnaco lascio a lei le conclusioni ovviamente innanzitutto ringrazio tutti voi per quello che ci avete detto per me è stata un'ulteriore lezione approfondimento di conoscenza perché un conto è lo spirito no l'approccio la cultura anche una certa visione no delle cose un conto conoscere meglio le problematiche quindi il punto diciamo così le tre cose che io vedo la prima è fare cercare di fare questo incontro con Morassut che è questo viceministro non lo so sottosegretario dell'ambiente che poiché ha fatto l'amministratore lui è stato a Roma amministratore tanti anni dovrebbe un minimo rendersi conto diciamo delle problematiche anche locali per affrontare questo tema dei servizi ecosistemici su cui stiamo lavorando la seconda cosa è quella di noi abbiamo non so se voi lo conoscete noi abbiamo questo Stina sistema naturale sistema integrato naturalistico ambientale che riguarda una superficie enorme credo che sia l'area preparco più grande che esiste in Umbria all'interno della quale poi ci sono tre aree naturali protette quelle della selva di Meana che sta vicino a Lerona ai confini con Lazio confinanti col Monte Rufeno quella dell'elmo Melonta dove poi c'è la riserva mondiale della biosfera e vabbè il vulcano di San Benanzo poi ci sono tante zone sicche diciamo così come anche quella che c'è a Parrano dove c'è la farfalla rara eccetera eccetera ecco adesso si sta rimettendo mano a questo Stina ha fatto una conferenza al nuovo assessore da poco e si tende a togliere che ne so le aree a riserve integrale faccio un esempio che sono poi quelle più importanti mentre invece credo che avrebbe ribaltato invece di fare solo una battaglia difensiva no? fare un ragionamento fare di questo sistema territoriale e naturalistico ambientale che va da da Todi fino a Collazione insomma girando come Monte Leone cioè è un'area enorme invece di fare delle pratiche su questo argomento diciamo della biodiversità in primo luogo con alcuni filoni di cui uno è questo delle api e ce ne possono anche essere altre queste credo che anche si tratta di concludere si tratta di vedere come proseguire voi fate il vostro lavoro quello che possiamo fare con amministratori è costruire una rete che si confronta con voi e cerca di dare degli sbocchi e delle idee tutto qui benissimo no mi chiedevo se questo incontro che lei suggeriva con il vice ministro sottosegretario all'ambiente non ho capito sarebbe anche interessante sta nel ministro dell'ambiente o sottosegretario vice ministro non ho capito no dicevo sarebbe anche interessante proporlo come rete dei comuni amici delle api che magari sia anche un peso maggiore ci ragioniamo su questo va bene va bene allora ci lasciamo tutti di nuovo e speriamo di rivederci presto ringrazio Paolo che poi senza di lui come altri apicoltori ma lui è il principale artefice tutto questo non ci sarebbe molto grazie a tutti e alla prossima puntata arrivederci grazie arrivederci grazie salve buona serata grazie a tutti grazie a tutti